Buongiorno a tutti, il mio compito è di presentare, invitarvi a venire a vedere la mostra di medicina e persona di quest'anno al meeting, misurare il desiderio infinito, la qualità della vita. Ok, perfetto. Ho pensato di fare in questo modo la presentazione, farò una breve introduzione io alla mostra e perché l'abbiamo fatta, poi il professor Giancarlo Cesana entrerà nel tema della qualità della vita e terremo per terza relatrice la nostra grande ospite, Silvie Menard, come testimonianza, proprio perché noi possiamo andare via di qui con la sua testimonianza e portarla con noi. Perché un gruppo di medici si lancia, rispetto del tempo che è già sempre poco nel lavoro quotidiano, nell'avventura folle, provare per credere, di fare una mostra per il meeting di Rimini e soprattutto per il dopo meeting, cioè per portarla in giro nei nostri ospedali. Quando nei weekend trascorsi nelle notti a fare questo lavoro mi sono chiesta perché, mi sono data questa risposta, che la prima motivazione di questo è certamente lo struggimento che ho, che rimanga nella medicina come radice profonda, quel tipo di conoscenza che nella mostra è sintetizzata come la conoscenza dello sguardo, che potremmo chiamare anche lo sguardo clinico, che è un modo di conoscere unico, che valuta insieme dei parametri oggettivi, misurabili e dei dati soggettivi, coglibili solo dallo sguardo accettato e ricambiato all'uomo di cui ci si prende cura. Infatti, chi ha bisogno di cura, quell'uomo, quell'uomo particolare con nome e cognome, dentro il suo bisogno di salute, esprime anche una domanda più grande, di salvezza, di un significato, di una pienezza, che è uguale alla mia. Esprime cioè il suo desiderio di compimento, anche magari come bisogno, impotenza di realizzarlo da sé per colpa della malattia, o timore di una nuova non indipendenza, ma anche come stupore o scoperta, come in questa immagine della convalescenza. Ed è con questi occhi che penso ci si debba confrontare, per dare risposte adeguate anche tecnicamente. Già Aristotele, riprendendo il corpus di Ippocrate, quindi siamo molto prima del cristianesimo, diceva che ogni pratica attiene all'individuale. Non è un uomo quello che si cura, quello che il medico cura, ma Callias o Socrate. E continua, se dunque si possiede la nozione senza l'esperienza, e se conoscendo l'universale, signora l'individuale che vi è compreso, spesso si commetteranno errori di trattamento, perché colui che occorre curare è l'individuo, e perciò è ultimamente irriducibile ai suoi antecedenti biologici, ai suoi parametri biometrici, e così non è negoziabile. La conoscenza operata da questo sguardo è affettiva, non è solo scientifica. Nasce perciò da una relazione, da un rapporto, dall'incontro con l'altro e col suo desiderio. Tra l'altro è da notare che questa esigenza non è solo l'esigenza di chi deve essere curato, ma anche di chi cura, perché tanti sguardi tristi, spenti, che non attendono nulla per sé dalla fatica che pur fanno, che si incontrano oggi tra il personale che cura, vengono proprio dal non conoscere o dal non accettare l'incontro a questo livello, che è un incontro fra due uomini, che hanno le stesse esigenze, gli stessi limiti, le stesse domande sulla vita e sulla morte, gli stessi desideri, e perciò possono dividere fatiche, domande, ma anche stupore e scoperte. Se non è per me, se non è per compiere anche me che io ti curo, io non respiro più dopo un po'. Ed è il mio lavoro, rimane solo il peso. Quindi, nel guardare la realità sanitaria che oggi mi circonda, sento l'urgenza di strumenti che aiutino a tenere aperto, nei luoghi della cura, questo debattito, questa ferita. In un mondo sanitario che è strattonato, fra tecnologie che sono un avanzamento sempre più rapido, fra problemi di budget e di risorse già finite, e l'ambiguità di una pretesa medicina basata sull'evidenza, infatti, rimane tuttavia bruciante sul tappeto la drammatica responsabilità di scegliere, con ogni uomo che abbiamo davanti. E la decisione che sia esplicitata o meno dello sguardo, cioè del tipo di conoscenza con cui vogliamo scegliere. Questo non solo nelle grandi scelte di inizio o di fine vita, ma anche nella pratica quotidiana, dove sempre più spesso, davanti a variegate opzioni terapeutiche, o davanti alla firma solo dei consensi informati, i cosiddetti, la domanda che si pone è qual è oggi la migliore terapia per questo uomo che ha questa malattia, questo polmone, questo cuore, ma anche che ha o non ha questa famiglia, questo lavoro, questo temperamento, eccetera. Così non è detto che per due persone con la stessa malattia lo stesso trattamento possa essere adeguato. Inoltre, avevamo l'incredibile esperienza fatta con la mostra precedente, Curare e guarire, Occhio artistico e Occhio clinico, fatta da Giorgio Bordini, nel 2005 al meeting. E da quello soprattutto che ne era seguito, cioè più di 6.000 cataloghi venduti, 53 mostre fatte nei vari ospedali, corsi in università, gente che lo utilizzava nei congressi, e soprattutto avevamo visto centinaia di colleghi e di persone commosse davanti ai quadri di quella mostra, che mostravano quel modo di curare, di essere curati, perché era quello per cui avevano deciso di fare l'infermiera o il medico e che ancora adesso appariva più corrispondente. Da aggiungere che proprio per questo una persona qui presente, che è Giancarlo Cesana, ci aveva buttato là che sarebbe stato meglio fare un'altra mostra. Ma ciò che nasce, nasce sempre da un'esperienza, più che da un progetto. E fra gli altri, avevamo incontrato l'anno scorso Pier Mertens, che è qui con noi oggi. Sarà capitato anche a voi... E sarà capitato anche a voi di sentire frasi come quella che abbiamo sentito l'anno scorso da lui, quando parlando di sua figlia, nata con la spina bifida, e che secondo il pediatra sarebbe stato un egoismo far vivere, diceva con un grande sorriso «La cosa più bella che mi è capitata nella mia vita è mia figlia Leslie». Oppure leggere quello che annota Christian Singer nel suo libro «Ultimi frammenti di un lungo viaggio», che ha scritto quando gli avevano detto che aveva sei mesi di vita per una malattia neoplastica. Ha voluto aprire un diario, per sei mesi lo ha compilato, riscrivendo in esso quello che le succedeva. Pensate questa frase, per esempio, «Sento intensamente questa crescita in me, imparo ad ogni istante, come mai prima. In questo ritmo attento, nulla è insignificante, tutto ha un prezzo, ed ha alla stoffa di cui si veste la giornata questo carattere prezioso. C'erano una volta troppe cose che facevo senza prestare loro attenzione nel cuore e senza mai sapere a cosa imputare la caduta di qualità che si manifestava nel quotidiano. Stava semplicemente nella perdita di intensità, di contatto, fra la mia coscienza e i gesti che ponevo su questa terra. Eppure, un momento di attenzione ritrovata riapriva tutto di nuovo. Quando si sentono frasi così, o si leggono lettere, come quella di Vicky, che è qui con noi, o di Joshua, dal carcere, o il libro della Etillesimo, che dal campo di concentramento, nel 1943, ci scrive che il mondo è veramente bello dappertutto, è impossibile non accusare un contraccolpo per la propria vita. Fatto dal sentire immediatamente che c'è tanto di vero e da scoprire in quelle frasi, perché quella è una vita che scuote la nostra vita e ci fa tornare a lavorare o tornare a casa diversi, e anche il disagio che si avverte per tutte le volte e tante scelte che quotidianamente facciamo dimenticando che è questa la vita vera e che sono ultimamente dualistiche. Così, questi testimoni ci tornano prepotentemente davanti agli occhi quando sentiamo parlare di qualità della vita, magari dai mass media che tutti i giorni usano questa parola, ma spesso per usare il termine qualità solo per dire che non si può vivere così e aprire la strada ad eutanasia o simili, irragionevolmente. Così, quando si ascolta una volta la testimonianza di Mario Melazzini non si hanno più dubbi quando si sente parlare del testamento biologico. Insomma, per queste ragioni abbiamo provato a guardare dentro a questo tema non per reazione ma perché se è falso il modo con cui conosciamo cos'è una vita di qualità è falso il modo con cui scegliamo la cura dei nostri malati e questo come medici non può interessarci non può non interessarci. Infatti, per scegliere si sceglie sempre esplicitamente o implicitamente. Si tratta di decidere in base a quale sguardo all'uomo si vuole scegliere ogni giorno. La medicina che si è sempre occupata in un certo qual modo di qualità della vita perché già i medici ippocratici dicevano che il compito del medico era permettere al suo paziente di proseguire per un tratto la sua vita nelle migliori condizioni di benessere fisico e morale possibile. Tuttavia, negli anni più recenti ha sviluppato una nuova attenzione a questo tema. Pubblicazioni sempre più numerose vertono proprio sul tema di quale qualità di vita le terapie disponibili rendono possibile. Questo, in sé, è un punto positivo evidentemente, una nuova attenzione, ma per lavorarci sopra nasce già la necessità di misurarla. Si devono individuare dei questionari, ma, come sentiremo poi da Professor Cesana, anche scientificamente queste misure sono sentite come ultimamente inadeguate. D'altronde, se le definizioni della qualità della vita oggi sono più di 80, è difficile pensare di parlare la stessa lingua. Nel lavoro ci siamo presto accorti che da approfondire era il tema della conoscenza, intesa non come una scatola chiusa in cui si misura, ma come una finestra, una finestra a cui si affaccia l'attesa dell'uomo per cercare una risposta. Come si può conoscere allora cos'è che rende veramente di qualità una vita per poter aiutare a migliorarla? Perché è evidente che non tutto si può misurare, per esempio un sorriso non si può misurare. Misurare è certamente utile, ma non dice tutto come vedremo, perché non tutto si può misurare e anche perché nessuno di noi è riducibile ai suoi antecedenti. C'è in più un mistero che non si misura, si riconosce. Nella mostra vedrete la carta di identità di Einstein che dice quanto è alto, che capelli ha, ma non dice tutto di Einstein perché evidentemente non dice che è un genio. Attenzione però, un passaggio che si è chiarito è che non dobbiamo accettare di dire che quello che non si può misurare, che è mal misurabile, non è conoscibile, non è vero, è conoscibile, ma occorre un altro metodo e questo è stato un passo importante. Certe cose si possono conoscere infatti solo guardando chi le ha vissute. Così abbiamo ascoltato, raccolto, riguardato dei testimoni di diverso tipo. Li incontrerete nella mostra, in pannelli stretti fatti per un incontro a tu per tu. Ed è in qualità di testimone che è qui con noi l'amica professoressa Silvi Menar. Ci pongono queste persone una domanda però. Perché sono così? Cos'hanno in comune queste persone? Hanno accettato di inoltrarsi verso l'ignoto, in un mare aperso. Hanno accettato la circostanza capitata a loro come una provocazione alla loro vita. Emilio Bonicelli quando spiegò ai figli la diagnosi di leucemia che poi l'ho portato a un trapianto aveva detto che c'era un viaggio da fare. Non sa come sarà il mare ma non abbiate paura, non temete il diverso, l'imprevisto, il non programmato. Certo, non c'è niente di automatico. Occorre non ridurre il proprio desiderio. Vedrete i magi di Ravenna che è una figura che amo molto che sembrano sembrano correre. Mi sono resa conto che ognuno di noi è chiamato nel viaggio che è la vita ad andare come loro, dietro a un segno conosciuto, erano astronomi, per loro la stella era un segno conosciuto, in una terra sconosciuta per cercare quello che risponde al desiderio e compie la vita. Questi testimoni non si sono accontentati, hanno cercato fino in fondo. Quando a noi che preparavamo la mostra per fare il nostro personale viaggio per scoprire che cosa fa di una vita una vita di qualità ci siamo ritrovati a farlo guardando e riordinandolo per farne un libro che è il Bouchet di Peogne di Marie-Michelle Ponset che trovate qua i disegni e le acquarelli che questa amica francese e artista parigina aveva fatto per appuntarsi come su un block notice essendo pittrice l'ha fatto con dei disegni e non con degli appunti le osservazioni che le venivano durante un ricovero in ospedale dove per una frattura di femore non aveva potuto essere operata e quindi è dovuta stare allettata per un po' per un problema di ematologico. Lo sguardo acuto dell'artista alla realtà vede ciò che accade nella circostanza concreta e ci accompagna risalendo fino a cercare un significato. Scopre così e ce lo fa vedere nei suoi disegni come la malattia può non essere ostacolo alla vita ma vibrazione di un pezzo di vita più intensa di un'attesa più importante della dimissione solo perché le cose nella vita accadono come dice lei per un shock come nella scrittura scusate come nella scultura prima l'urto di una diagnosi sono caduta nelle mani dei medici che vogliono misurare l'invisibile che c'è in me che ti scompiglia i piani poi che cosa ti aiuta nel tuo viaggio una realtà fatta di cose e persone che ti possono ostacolare come questi baroni o che ti o che ti aiutano consolatori fino a riconoscere i doni la realtà in se stessa riscoperta come donata le persone le visite degli amici che sono il segno che la tua vita conta per te e che ti può anche permettere di chiederti io in che direzione ripartirò fra i quadri che vedrete alla mostra voglio solo commentarvi questo che è anche il logo della mostra il quadro delle peogne lo chiamiamo ma in realtà ha avuto un doppio titolo all'inizio il titolo che Marie Michelle aveva dato era Etienne viene a trovarmi e porta un gigantesco mazzo di peogne che mi fa molto felice e si capisce perché una evidente bellezza portata da un amico è un segno che la tua vita è amata ma è solo il segno non basterebbe perché poi le visite in ospedale a una certa ora finiscono parenti si buttano fuori e tu rimani da solo quindi la domanda rimane sorprendentemente quando ci ha ridato l'ultima versione Marie Michelle ha cambiato il titolo mettendo la visita silenziosa di mio padre ed è realistica perché suo padre è novantenne si è seduto lì su quella poltrona ma nello stesso tempo in questo modo ha unito il segno col significato così per chi accetta la provocazione della circostanza la vita va verso il suo compimento attraverso tutto come ha detto quest'anno il padre di un bambino molto malato che ci ha detto quello che mi succede è quello che mi occorre per fare la strada per riconoscere la risposta al mio desiderio questo chiamiamo infatti destino un'altra diventa la tua vita più bella così nell'ultima sala della mostra abbiamo voluto mettere questa la poesia di Adanegri per questo allora per quello che abbiamo visto tornando al tema dei questionari per quello che abbiamo visto in questi testimoni è evidente che i questionari della quality of life appaiono sono perlomeno insufficienti e devono tenere almeno delle caselle vuote che è bene il contrario di un certo modo di misurare per tutto quanto accade di nuovo attraverso la malattia qualcosa che prima della malattia non c'era che non si aspettava e che dopo c'è infatti non ti compi da te è altro che ti viene incontro attraverso tutto un'altra sei se accetti che tutto è per te perché la tua vita si compie basta per questo pensare al mio amico Bonicelli quanti migliaia di libri ventuti un foro un fatto decine decine di incontri in cui ha aiutato altri ad affrontare la malattia comunque una ragione che sia degna di questo nome comprende che tutto questo non può rimanere una premessa a lato della nostra vita ma anzi deve informare sempre di più la cura dei pazienti la costruzione dei luoghi di cura come si fanno gli ospedali e le leggi che si fanno in un paese se non si vuole ridurre l'uomo proprio nella caratteristica precipua dell'uomo che è il suo desiderio infinito infatti accorgersi con sorpresa ogni volta in noi stessi e nei malati che incontriamo abbiamo voluto ringraziare loro nel catalogo che abbiamo fatto nella mostra di questa intensità di vita possibile e avvicinarsi a quello che più caratterizza l'uomo un mistero e un desiderio infinito cui non basta neanche la guarigione come aveva ben capito il lebroso dei dieci che è ritornato a ringraziare non perché era più educato degli altri ma perché aveva capito che lì c'era più della guarigione saremmo contenti se questa mostra potesse contribuire a tenere aperta quella ferita nel cuore del mondo sanitario e per me non avrebbe avuto senso se non fosse un tutt'uno col mio lavoro di ogni mattina un modo cioè un gusto di conoscere quindi di operare meglio per i miei malati per quello che vorrei fosse la sanità per i malati futuri noi compresi oltre che per educare i giovani ai quali si cerca di insegnare il mestiere uno sguardo e un metodo grazie adesso il professor Giancarlo Cesana docente di igiene generale applicata all'università di Milano della Bicocca ci introdurrà più ampiamente al tema della qualità della vita per tutto il resto lo conoscete benissimo brevemente non ampiamente spero di riuscire a darvi un'idea di qual è il problema della misura della qualità della vita in medicina le misure della qualità della vita sono nate giustamente per cercare di valutare gli effetti delle cure soprattutto delle cure croniche per esempio nel caso dei tumori nel caso delle malattie cardiovascolari persistenti nel caso delle invalidità cioè valutare se una certa cura migliorava effettivamente le condizioni di esistenza di una persona oppure no e queste misure sono normalmente fatte attraverso questionari nel senso che si dà al paziente un questionario in cui c'è scritto grosso modo come stai e lui facciamo una domanda le domande sono molto di più riguardano soprattutto se riesce a vestirsi se riesce ad alzarsi se riesce ad andare fuori se ha autonomia facciamone una tipo non lo so come stai sto bene sto molto bene sto bene discretamente sto sufficientemente bene e così via oppure attraverso delle valutazioni di osservatori che rispondono alle stesse domande però dal loro punto di vista guardando il paziente e qui c'è un primo problema perché poi le risposte a questi questionari e le osservazioni degli operatori che valutano appunto la qualità della vita del paziente vengono tradotti in numeri e questo è un primo problema perché non so se c'è la domanda come stai bene discretamente ecco facciamo bene e discretamente bene non è il doppio di discretamente quindi tradurre in numero queste risposte è molto difficile il massimo che si può fare è creare un ordine per cui queste misure sono molto complesse e i risultati vengono fuori anche contraddittori beh poi si trova gente molto malata che dice di stare bene e gente che sembra che stia bene che dice di stare molto male insomma io mi ricordo che avevo un amico che è morto aveva un tumore al cervello dopo un po' l'ho incontrato era tutto calvo perché stava facendo la chimioterapia gli faccio come stai e lui sorridendo mi dice sai sono come uno che sta cadendo dal dodicesimo piano adesso sono al sesto sto bene no? e stava bene veramente cioè non era uno che si era perso per cui su questo problema della qualità della vita c'è un grande fervore scientifico in una recente revisione di tutti i lavori che si fanno a questo proposito è stato messo in evidenza che si usano circa 224 tipi di strumenti per valutare strumenti diversi per valutare la qualità della vita e io ho fatto una revisione bibliografica negli ultimi 15 anni di articoli dove nel titolo c'è il problema della qualità della vita ne sono usciti 15.000 dentro poi chissà quanti ne sono usciti quando c'è questo grande fervore scientifico vuol dire che si capisce abbastanza poco questo tenetelo sempre presente no? perché la scienza vive di ricerca quando si ricerca molto è perché si capisce poco no? quindi è un tema appunto molto difficile in medicina veramente difficile è assolutamente non risolto perché appunto per per queste difficoltà per queste difficoltà di valutazione per queste difficoltà che provengono da risposte diverse in contesti diversi il problema poi si complica quando questo criterio di misurare la qualità della vita viene applicato non solo agli ammalati ma viene applicato anche ai sani qui poi non si misura proprio più niente no? c'è un c'è un bellissimo rapporto uscito ormai qualche anno fa che è stato presentato anche qua da Edmund Pellegrino che è il presidente del consiglio di bioetica che è il che è il capo del consiglio di bioetica del presidente degli Stati Uniti c'è un bellissimo rapporto fatto da Leon Castle sulle applicazioni della medicina oltre la terapia che riguardano appunto la qualità della vita e che sono fondamentalmente quattro fare migliori bambini cioè bambini che non si ammalano bambini che non hanno il rischio per esempio non hanno la predisposizione genetica a certi tumori bambini che siano in buona salute che siano poi vabbè poi dopo si arriva anche a livello voglio biondo lo voglio ma soprattutto ci sono delle applicazioni sui bambini che sono sui bambini già nati che riguardano per esempio il miglioramento del comportamento un comportamento più corrispondente alla qualità della vita c'è una sindrome c'è una diagnosi che viene applicata ai bambini che riguarda il fatto che sono iperattivi e disattenti cioè bambini un po' eccitati sostanzialmente a questi bambini per migliorare il comportamento si è cominciato a dare dei farmaci il farmaco più usato si chiama Ritalina è uno psicofarmaco negli ultimi dieci anni la produzione negli Stati Uniti è aumentata del 2700% adesso la Food and Drug Administration ha provato di dare ai bambini anche il Prozac il Prozac è un antidepressivo se però leggete il bugiardino cioè lo specchietto che spiega per cosa viene usato viene usato per la depressione viene usato per l'anoressia cioè viene usato per tutto perché non si capisce niente cioè tenete presente che quello come diceva come diceva Elliot nel Cori della Rocca tutta la nostra conoscenza ci porta più vicini alla nostra ignoranza e questo è profondamente vero soprattutto come cercherò di farvi capire quando si parla di qualità della vita questo è un esempio dei bambini poi c'è un'applicazione per esempio fare migliori performance tutto il problema del doping tutto il problema del doping nello sport è un problema connesso con gli sviluppi degli studi sulla qualità della vita per il miglioramento della prestazione poi ci poi ci sono come si chiama le applicazioni al fatto di aumentare l'età far vivere di più ma anche qui ci sono dei problemi no? pensate tutte queste cose vengono fatte senza più questione si è partiti dalla misurazione per poi arrivare a delle definizioni che poi voi pensate allungare la vita no? mettiamo che la vita dunque l'uomo che ha vissuto di più ha vissuto fino a 120 anni sopra fino adesso non si è andati facciamo 120 anni quando è che si va in pensione? 95? 102? e a scuola quanto si va? fino a quanti anni? 30? 35? 40? no? se tu hai il papà imprenditore quando è che comincerà a farti lavorare? e se ti sparano? oppure ancora rendere più felici più felici di umore hanno trovato un sistema bellissimo togliere la memoria così non ti ricordi gli effetti spiacevoli e così via no? queste sono le applicazioni quindi ci sono applicazioni della qualità di valutazione e poi ci sono le applicazioni appunto sul fine vita il caso dell'Eluana e Inglaro ce l'avete presente tutti cioè una vita di bassa qualità è una vita che non vale la pena di essere vissuta lo diceva anche lei dicono per cui sopprimiamola no? così in India adesso abbiamo visto ieri hanno bruciato i cristiani eccetera perché rompono il sistema delle caste noi accoppiamo gli ammalati perché disturbano più o meno il concetto è sempre quello cioè si toglie protagonismo a chi in qualche modo rompe le scatole cioè ricorda l'uomo di che cosa è fatto no? come diceva sempre Elliot appunto perché gli uomini dovrebbero amare la chiesa gli ricorda la vita e la morte no? è dura dove loro sarebbero molli è molle dove loro sarebbero duri e così via cioè ma cioè tutto questo discorso sulla qualità della vita tentativo di misurare la vita si scontra con un fatto con un fatto ineliminabile e cioè che la vita non può essere misurata non può essere misurata per la semplice ragione che la vita non l'abbiamo fatta a noi cioè noi non ne siamo padroni per cui non possiamo misurarla cioè non sta dentro le nostre dimensioni è quello che si dice solitamente quando si dice che la vita è mistero cioè la vita è qualcosa che sentiamo qualcosa che percepiamo qualcosa che ci dà fastidio qualcosa che ci fa ma qualcosa che alla fine non è nostro non ce la siamo data noi e nemmeno noi decideremo verosimilmente quando finirà no eccetto i suicidi in coscienza ma spero che siano pochi e quindi la vita cioè ciò che è mistero è infinito il titolo di questo incontro è misurare il desiderio infinito l'infinito non si può misurare perché si chiama infinito in quanto non è soggetto a misura perché l'infinito non è uno più 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 tante volte no? l'infinito non è uno più uno l'infinito è un'altra cosa cioè qualcosa che non entra che non entra nelle mie capacità di valutazione che non entra appunto nelle mie capacità di misura e il problema della misurazione della qualità della vita è un problema applicato a questo e quindi è un problema alla fine irresolubile no? e la presunzione è quella di risolverlo risolvere una cosa che non cioè l'uomo che diventa praticamente padrone di se stesso questo non esiste per cui per finire si dice appunto scusate ho dimenticato una cosa si dice appunto che il problema della qualità della vita ma non lo dico solo io e lo dicono anche quelli che fanno queste misure della qualità della vita che poi per esempio c'è un centro danese che ha fatto un grossissimo studio su diecimila e passa persone appunto con tutti i questionari eccetera e poi nella valutazione dei risultati anche loro arrivano a dire no c'è un problema e cioè che la qualità della vita è legata al senso della vita cioè qualcosa e cos'è il senso della vita cos'è il senso cos'è il significato il senso è il rapporto cioè che le cose abbiano un senso vuol dire che sono in rapporto tra di loro cioè vuol dire che non sono disposte casualmente ma vuol dire che ciascuna corrisponde a quell'altra e il senso della vita vuol dire che io non sono un caso io sono voluto cioè io sono in rapporto e questo appunto l'essere amati è un altro fattore non misurabile che determina moltissimo dell'atteggiamento degli ammalati o determina moltissimo per esempio degli atteggiamenti degli atteggiamenti della crescita dei bambini variamente handicappati che se sono voluti bene dai genitori loro sono contenti sono i genitori che magari sono scontenti ma loro sono contenti perché l'essere amare infatti è esperienza di qualsiasi medico che è un ammalato come si chiama che è un ammalato che sia sostenuto che sia amato che sappia questo ha una coscienza di sé che gli dà appunto una percezione della qualità della vita infinitamente diversa appunto non misurabilmente diversa rispetto alla percezione della qualità della vita che ha uno che è lasciato solo anche se non è ammalato no? perché possono essere stelle del cinema eppure si drogano eppure si suicidano eppure vivono eccetera per cui il massimo a cui si può arrivare per quanto riguarda il significato il massimo a cui si può arrivare come percezione del significato è proprio l'esperienza del rapporto i numeri a questo punto non ci arrivano no? e quindi la qualità della vita non riescono mai a definirla allora per concludere con questo io non dico affatto che non si debba misurare la qualità della vita cioè non si debba valutare l'efficacia delle cure ma in realtà questa misura della qualità della vita questi discorsi sulla qualità della vita non sono misure della qualità della vita sono misure dello stato di salute e lo stato di salute non è tutto c'è un proverbio che dice quando c'è la salute c'è tutto ma è un proverbio sbagliato perché sì dovrebbe dire invece di salute dovrebbe dire quando c'è la salvezza c'è tutto non la salute la salvezza perché uno se è ammalato e si sente salvato c'è sempre tutto lo stesso per cui si misuri pure lo stato di salute salvato vuol dire che il tuo valore ti è dato oltre le tue forze e le tue capacità ecco per cui misuriamo pure lo stato di salute ma non ci rompano le tasche a definire com'è la qualità della nostra vita perché la qualità della nostra vita lo sappiamo noi com'è ascoltiamo adesso la testimonianza della professoressa Silvie Menard attualmente consulente all'istituto nazionale di tumore di Milano dove ha lavorato per decenni come campo dipartimento nella sezione di sperimentale di oncologia sperimentale e la ringraziamo intanto per essere venuta al meeting a raccontarci la sua storia se mi applaudite ancora prima che abbia cominciato non comincio neanche allora innanzitutto mi presento un pochettino di più io mi chiamo Silvie Menard che per voi suonerà un po' esotico perché io sono francese di nascita ma sono italiana di vita perché sono qua da 40 anni ho fatto il 68 sulle barricate a Parigi e poi nel 69 sono venuta in Italia molti hanno detto è venuta in Italia perché ha dovuto scappare non è vero sono venuta in Italia per il grande amore della mia vita e mi sono sposata quindi sono francese e italiana e venendo in Italia ho cominciato subito a lavorare all'Istituto Nazionale di Tumore di Milano dove ho lavorato adesso per quasi 40 anni e per quasi 40 anni ho parlato di cancro tutti i giorni della mia vita spesso sabato e domenica compreso perché il mestiere di studiare il cancro di fare nuovi farmaci è un mestiere che è a tempo pieno e recentemente negli ultimi diciamo dieci anni sono stata molto coinvolta nel studiare questi nuovi farmaci detti biomolecolari farmaci intelligenti e il primo problema che ci siamo posti con questi farmaci è qual è la qualità della vita dei pazienti che verranno curati con questi farmaci questionari anche lì scelta del questionario e pensavamo con questo di fare se vogliamo un po' di concorrenza alla chemioterapia che tuttora la terapia di elezione per il cancro perché la chemioterapia è molto dannosa fa venire la nausea fa venire il vomito fa perdere i capelli il paziente quindi vive male la sua vita perché il farmaco che gli diamo è molto tossico e allora questi nuovi farmaci devono assolutamente non avere più questo aspetto così detrimentale per il paziente quindi quando mi hanno invitato al congresso di Rimini ho subito pensato qualità della vita i farmaci come fanno vivere il paziente perché far vivere prolungare la vita di un paziente molto bello dal punto di vista diciamo concettuale il nostro mestiere di fare i farmaci sempre più potenti però a condizione che questa vita prolungata sia una vita di qualità perché se è una vita con un paziente che sta molto male forse questo prolungamento non vale il secondo aspetto quando ho sentito qualità della vita ho anche subito pensato al testamento biologico che chiaramente ha dentro come componente una vita di qualità io lavorando all'istituto tumore sono stata per vent'anni venticinque un allievo mi considero un allievo del professor Veronese ho sempre seguito non solo scientificamente quello che ha scritto quello che ha fatto ma anche l'ho seguito nell'aspetto più etico della sua diciamo carriera e quando ha lanciato l'idea del testamento biologico gli ho detto mi sembra una cosa molto ben fatta certo che se possiamo già dire come noi vogliamo vedere la nostra vita quando saremo vecchi o quando saremo malati benissimo perché è una cosa una libertà che ci dà di poter decidere noi essere noi il protagonista di quello che sarà la nostra fine di vita questo ovviamente il testamento biologico è sinonimo comunque di eutanasia perché se io faccio il testamento proprio perché se la scelta nel testamento è l'eutanasia e anche la sua richiesta di fare una legge sull'eutanasia mi sembrava una cosa molto giusta perché la libertà di poter escegliere magari non l'avrei usato per me però per gli altri la libertà in tutti i suoi aspetti non si può essere francese e non amare la libertà comunque la libertà degli altri mi poteva andare bene e poi è successo il fatto che ha completamente rivoluzionato la mia vita è un fatto banale che succede probabilmente a centinaio di persone in Italia tutti i giorni però questo fatto è successo a me allora per me per la mia persona questo ha cambiato tutto e il fatto è molto semplice mi sono accorto tre anni fa di essere ammalata di cancro il che vuol dire che il cancro che avevo sempre visto negli altri non era più una malattia dell'altro ma era una malattia mia un cancro del midoloso che si chiama mieloma e che tutti quelli che lo studiano e ci scrivono sopra capitoli di libri articoli sui giornali più prestigiose amano a definire inguaribile perché questo dà a chi scrive un valore maggiore perché se io faccio delle ricerche su un tumore guaribilissimo come il carcinato della mammella oggi perdo diciamo valore la mia ricerca se invece lavoro su un tumore inguaribile che quindi ammazza tutti i pazienti qualsiasi piccolo passo avanti fa fare qualcosa di buono per il paziente per cui questo ripeto la definizione che amano molto dare mieloma tumore inguaribile è scritto anche su internet basta digitare mieloma su internet e tutte le pagine che arrivano sono scritte in grosso il mieloma ha un tumore inguaribile questo quando mio figlio è andato su internet abbiamo avuto una grossa litigata in famiglia perché io avevo presentato la diagnosi abbastanza come dire mettendo tutto l'ottimismo che ho sempre avuto io nella vita e ovviamente lui andando su internet vedendo inguaribile non gli ha fatto piacere mi ha trattato di bugiarda dice non solo sei malata ma sei pure bugiarda abbiamo messo un po' di tempo a riagganciare i nostri rapporti che oggi sono ottimali però questo è un messaggio che vorrei dire è inutile dare queste definizioni perché poi magari sono anche false oggi magari con le nuove terapie non è più affatto così però il trauma della diagnosi di cancro io che avevo visto tanti malati nella mia vita non mi ero mai accorto di che cosa vuol dire vuol dire la morte dentro vuol dire che per alcuni giorni settimane uno è nel mondo dei vivi continua a lavorare continua a fare da mangiare la sera continua a fare tutto quello che ha sempre fatto ma è come se fosse già morto perché cancro per me che ho studiato il cancro e sono la prima a dire oggi abbiamo dei farmaci meravigliose di cancro si può convivere io ho sentito come una una dichiarazione di morte e allora uno dice perché questa dichiarazione di morte per me è così traumatica perché sono così disperata perché sono così angosciata perché la morte io avevo sempre metabolizzato visto la morte degli altri la morte delle persone care la morte di certi amici carissimi e la morte quindi per me era una tragedia la tragedia della mancanza di queste persone queste persone che muoiono per me voleva dire rimango sola sempre più sola perché muoiono sempre di più delle persone che erano diciamo delle persone che amavo invece la morte propria questa tragedia dentro non ce l'ha perché i giorni in cui muoio io non è che mi lascio sola non ci sono più e chiuso lì e quindi la morte prende piano piano nella mia testa una come dire una tipologia diversa non è più una tragedia è solo la fine del percorso la vita non esisterebbe se non ci fosse la morte e la morte c'è perché c'è stata vita prima quindi le due cose non si possono separare sono naturali sono qualcosa anche di necessario dobbiamo fare anche spazio alle generazioni successive se la vita fosse infinita se fossimo tutti immortali innanzitutto sarebbe un macello incredibile sulla terra perché si potrebbe stare solo in piedi come in certe piscine perché non ci sarebbe più spazio per tutti e per forza bisogna morire a un certo punto e comunque vuol dire che pensando alla morte come ad un evento naturale di fine di un percorso allora automaticamente la vita prende un significato completamente diverso un significato di qualcosa di così prezioso perché è finito cioè lo si perderà un giorno e quindi quello che rimane quello che c'è deve essere vissuto al meglio deve essere vissuto a pieno ritmo a pieno consapevolezza ed un colpo mi sono accorto di essere innamoratissima della vita di qualsiasi vita a qualsiasi prezzo perché questo è il percorso da fare non perché io abbia paura della morte ma semplicemente perché non vedo perché accelerarne il processo e allora mentre in un primo tempo nel momento del trauma ero quasi dubbiosa io io che per 40 anni l'ho fatto di mestiere dubbioso se curarmi o no perché quel momento lì ero in piena salute una diagnosi di un tumore inguaribile ho detto che cosa mi curo a fare le cure mi faranno stare malissimo e intanto non mi guariscono sono quindi delle cose un percorso inutile e poi ho fatto la distinzione tra quello che di solito nessuno fa tra inguaribile e incurabile sono due cose completamente diverse inguaribile si può dire lo siamo tutti perché moriremo tutti quindi la vita stessa è qualche cosa che porta all'inguaribilità inguaribile vuol dire da questa malattia non verrà mai rimosso completamente ce l'avrai sempre e potrai morire con questa malattia non necessariamente morire di questa malattia ma morire con questa malattia incurabile è una malattia per cui non abbiamo nessuna terapia e se c'è invece una malattia curabilissima è proprio il mieloma ci sono ormai tantissimi nuovi farmaci non si sa niente di quello che faranno però curabile lo sono di sicuro e allora questo concetto qua uno dice curabile benissimo allora io mi curo prolungo quindi la mia vita ripeto a qualsiasi prezzo anche di tossicità più forte perché la vita è bella anche quando si sta male io ho fatto ho fatto alcune terapie un po' diciamo tossiche il cervello appannato il cervello che non riesce più a concentrarsi su niente per cui non si può leggere non si può nemmeno sentire la musica e invece io questo periodo qua che cioè più di tre anni fa avrei detto per carità io senza il cervello che funziona bene non vorrei neanche vivere l'ho trovato un periodo bello perché sapevo che questa tossicità era per guadagnare diciamo un po' di tempo della mia vita e in fondo essere dipendente dagli altri non mi ha fatto soffrire era un po' come tornare nell'utero materno e essere coccolato dagli altri ma ritorniamo alla prima parte della malattia il trauma questo trauma terribile che comunque uno ha fa un solco nel cervello e questo solco qua nella mia nuova vita ci sarà sempre io sarò sempre comunque malata di cancro molti pazienti oggi che sono guariti di cancro però vivono la loro vita da malata di cancro dal trauma iniziale non tutti i pazienti riescono a recuperare una vita normale una vita addirittura più più ricca della vita precedente perché uno non ha capito il valore Tiziano Terzano che era malato di un tumore dell'intestino diceva nel suo libro che i pazienti si dividono in due categorie le vittime e gli eroi purtroppo ci sono tanti pazienti che sono rimasti vittime della malattia che vivono magari guariti dalla loro malattia ma vivono con ancora questo trauma di essere malati dentro e per questi pazienti secondo me i nostri questionari sulla qualità della vita se hanno vomitato se hanno perso i capelli mi sembra che ci sia uno sbilancio enorme perché la malattia fisica il non stare bene e vomitare è niente rispetto al trauma enorme che ha subito la persona l'individuo e che si sente la morte dentro io credo che noi dobbiamo prendere atto che esistano queste pazienti e il sistema sanitario deve prima di tutto curare il trauma che ha dato la diagnosi e poi pensare anche di curare la malattia senza curare questo trauma iniziale noi avremmo sempre dei pazienti magari in piena salute ma dentro hanno qualche cosa che gli impedisce di vivere la loro vita pienamente e quando dico questo questo trauma vuol dire che il medico deve imparare sempre di più a dare conforto ai pazienti a seguire il paziente a dargli la speranza di un futuro senza futuro credo che nessuno di noi può vivere io quando al momento della diagnosi ho guardato subito sui libri di oncologia cos'è la sopravvivenza per il paziente con mieloma avevo dei libri un po' vecchi grazie al cielo davano tre anni io quando ho detto ho tre anni di vita cosa faccio io durante questi tre anni e la risposta è stata niente perché quando uno ha un muro davanti non riesce più a programmare tutto quello che avevo in testa di programma mi sembrava tutto troppo corto come tempo e al paziente dobbiamo sempre dare una speranza un futuro qualche cosa che gli permetta di fare la sua vita ripeto anche con tossicità di farmaci che a mio avviso oggi sono quasi diciamo insignificante rispetto a come il paziente si sente dentro come ha subito come ha percepito la malattia e come è riuscito a rinascere da questa malattia se questo sforzo qua non lo facciamo credo che purtroppo fare dei farmaci che non fanno vomitare non sarà lì il punto cruciale per fare vivere meglio il paziente è chiaro che il parere diciamo su quello che è la qualità della vita tra una persona sana e una persona malata è completamente diversa almeno per me è completamente diversa prima avevo un'idea della mia immortalità la morte era degli altri la malattia era degli altri e pensavo come l'ho detto prima che in caso di menomazione quando vediamo una persona paralizzata dice io non vorrei mai finire così certo non credo che nessuno di quelli che oggi vivono una vita difficile con degli handicap fisici forte abbiano mai detto non mi dispiacerebbe finire su una seggiata non mi dispiacerebbe certo nessuno di noi e nemmeno loro l'hanno voluto loro l'hanno però e l'hanno accettato perché nessuno di noi sa come reagirebbe in caso in cui l'unica cosa che ci è dato come vita è questa allora uno l'accetta e siccome la vita è bellissima è bellissima anche in queste condizioni qua ci sono solo tre aspetti in cui io che sono contro le eutanasie che sono contro scrivere testamento che non servono a niente potrei un domani essere la prima a dire io voglio morire la prima è il dolore la paura folle di finire nel dolore il dolore forte il dolore che fa sparire tutto quello che c'è intorno gli amici i parenti i mariti i figli perché tutto tutto viene concentrato per il malato solo su questo dolore intollerabile io credo che lì dobbiamo proprio fare una mea colpa il paese Italia e indietro secoli rispetto all'Europa perché la terapia del dolore non è diffuso dappertutto perché si deve lasciare un paziente soffrire un paziente mi ha scritto recentemente un'email dicendo io sono un paziente terminale e il mio medico curante mi ha detto io non ti faccio terapia del dolore perché non voglio drogarti ma scherziamo cioè questo è un dovere del medico curare il dolore se poi questa cura è così potente perché il dolore è molto forte il paziente ha un rischio di morire non è che lo si è ammazzato per l'eutanasia si è cercato di migliorare la sua qualità di vita togliendogli il dolore il secondo motivo per il quale io penso che uno possa chiedere di morire è la depressione io ero convinta fino a poco tempo fa che la depressione fosse una malattia un po' come dire ambigua dove il paziente però si lasciava un po' andare uno dice ma reagisci fai qualcosa perché questo stato che magari è assolutamente immotivato io ho vissuto con un suocero molto depresso sempre depresso quindi ho visto e ne facevo quasi una colpa della sua depressione perché non come dire non riprendeva la sua vita in mano e poi ho sperimentato la depressione una depressione da post alte dose di cortisone io non avevo diciamo ragionato che non si può smettere 40 mg al giorno di cortisone in un giornalato perché le sue renale prima di rimettersi a funzionare ci vogliono un po' di tempo e quindi uno rimane carente e questo non in tutti però in alcuni pazienti compreso me da uno stato di prostrazione di depressione che è incredibile e io che sono una donna che ho sempre considerato attiva ottimista che prendo sempre su di me ho passato giornate prostrate in una poltrona mandando a quel tal paese tutti i figli e così perché e con una voglia di morire di finirci con questa vita con questa malattia con tutto allora vuol dire che la depressione è una vera malattia che va curata come tale un paziente depressa è un paziente che per forza chiederà a un certo punto che rifiuterà le terapie non vuole più vivere io penso che la depressione penso oggi che la depressione è molto peggio del cancro perché il cancro a me ha fatto venire voglia di vivere la depressione invece la toglie completamente per cui tra le due malattie oggi devo dire che ringrazio di avere il cancro e non la depressione il terzo motivo per il quale uno potrebbe essere tentato di chiedere le eutanasie e il motivo per cui io non voglio le eutanasie è la dipendenza dagli altri la dipendenza dagli altri ripeto fin quando sono stata in ospedale accudita con amore da infermieri bravissimi con la mia famiglia dietro il vetro però per sempre lì non mi ha creato problemi se questa dipendenza dagli altri vuol dire stare a casa e obbligare tutta la famiglia a cambiare completamente la propria vita per assisterti per diciamo tutto quello che è la vita di tutti i giorni compreso lavare il bagno queste cose qua io credo che a questo punto il paziente in un paese dove c'è l'eutanasia è spinto da non fare soffrire la sua famiglia a chiedere di morire per non obbligare gli altri a subentrare nella propria diciamo gestione ed è per quello che io credo che se la libertà di certi io sarei del parere che libertà completa chi vuole l'eutanasia lo chiede ma in un paese dove c'è è un po' una spinta al paziente di dire insomma se tu soffri se sei un po' depresso e dai fastidio rompi a tutta la famiglia che devono fare i turni giorni e notti per accudirti in fondo l'alternativa te l'abbiamo dato c'è l'eutanasia e anche chi proprio come me dice io voglio vivere fino all'ultimo secondo e a un certo punto diventa quasi un obbligo non farlo ed è egoista perché vuol dire io ti obbligo mio figlio a passare le notte ad accudirmi mentre l'alternativa c'è basterebbe che tu firmi lì ed è per quello io credo che l'assistenza sanitaria del paziente terminale a casa negli hospice le cure palliative anche queste sono tutte cose che vanno assolutamente sviluppate io lo so che la popolazione sana dice il termine della vita noi non ci pensiamo neanche il paziente invece è obbligato a pensarci un pochettino di più e a dirsi in fondo se ci fosse un sistema che accudisce il paziente a casa un sistema che gli toglie la depressione un sistema che gli toglie il dolore allora io credo che i pazienti che chiedano l'eutanasia non ce ne saranno ci sarà veramente il minimo che ovviamente è l'eccezione in tutti i campi ci può essere ma veramente il minimo se però prima non mettiamo a posto queste tre cose qua una legge dell'eutanasia rischia di essere la soluzione di facilità del paese invece di spendere per fare tutte queste strutture ammazziamo facciamo che il paziente stesso chiede di morire e la soluzione di facilità è un bypass del problema e io ho paura che il paese sta andando in questa direzione 60% degli italiani dicono riportano i giornali sono per l'eutanasia probabilmente l'eutanasia degli altri ma non si rendono conto non si rendono conto che questo un giorno rischia di ritorcersi contro di loro e visto che c'è la legge ti lascio soffrire perché l'alternativa ce l'hai io con questo vorrei dire che la malattia non è sempre portatrice di sofferenza può essere un'esperienza quando uno la vive di rinascita di ricostruzione di priorità nella vita di quello che uno vuole fare e può avere il suo lato positivo grazie 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 a tutti grazie a tutti ringrazio ringraziamo con questo applauso credo Silvì perché ha avuto il coraggio e la ragionevolezza di cambiare persino una posizione presa a priori guardando fino in fondo l'esperienza vissuta e guardando nella positività che ci veniva in questo ci ha fatto proprio vedere che l'esperienza è quella che ci permette una conoscenza più profonda delle nostre idee a priori e poi perché ci ha anche indicato come questa cosa può diventare un modo con cui modifichiamo anche alcune scelte del campo sanitario grazie a tutti e vi aspettiamo la mostra grazie a tutti